Il primo progetto del genere in Italia? Sì, sicuramente diciamo che è uno dei primi progetti strutturati che viene in Italia. La campagna informativa, quella istituzionale, è già a buon punto da parte delle società scientifiche, risposte per le sanità, da parte del Ministero. Però una campagna così diretta alla popolazione e così direttamente relazionata, in modo di avere un contatto continuo con le fasce interessate della popolazione, penso che in Italia non sia stata fatta. Avete coinvolto l'ufficio scolastico provinciale e anche diversi esperti, non solo locali? Sì, diciamo che l'idea è partita dalla direzione strategica aziendale. È logico che la fascia di bambini che si va a vaccinare è quella compresa tra 5 e 11 anni, che sono tutti bambini in età scolare. Per avere una possibilità di successo e quindi per raggiungere necessariamente tutti i genitori, bisognava coinvolgere i responsabili delle scuole. Per questo l'ufficio scolastico provinciale ci ha autorizzato a presentare il progetto nelle varie scuole e devo dire che ha avuto un notevole successo. Per quanto riguarda gli esperti, ci saranno degli esperti locali, ci sono io con il mio team che saranno disponibili per le dirette live per rispondere a qualsiasi dubbio e poi ci ha dato la grossa disponibilità il professor Villani, che ricordo era il presidente della società italiana di prediatria quando è scoppiato il Covid.